Bene, questo è un video fatto da me, poi ne arriveranno magari fatti in miglior modo. Vi accompagno un po' in quella che è la mostra, questa collettiva che stiamo facendo. Le riprese chiaramente non saranno ottime, ma giusto così, per dare un'occhiata al tipo di lavori che sono presentati. Ogni artista ha portato quattro opere, a parte Michael, che ha portato anche due telegrandi, le prime di grandi dimensioni, che abbiamo visto all'inizio. Adesso, nome per nome non ve li so dire, comunque dopo, se la mette la Paola, cercheremo nel suo blog di mettere anche le foto e i nomi degli artisti. Scusate le riprese, ma io sono alquanto foca. Adesso andiamo avanti, questa è la prima sala. Faccio queste riprese prima che cominci l'apertura, che dopo probabilmente ci sarà un po' di gente. E' giusto per avere un'idea, ecco diciamo, perché mi diceva Alex che poi verrà fatto un video tramite suo figlio, che è bravo in queste cose. Vediamo di non muoverci troppo. E vediamo se riusciamo anche a metterlo su YouTube, perché non è che sono molto convinto. Anche se questa computer mi dà la possibilità. Ecco, in questa sala frontale avrebbero dovuto essere esposti due lavori molto grandi, provenienti anche da questi, dagli States. Ma purtroppo ci sono stati problemi alla dogana, le opere sono rimaste lì, è difficilissimo sdoganarle. L'autore ha anche avuto i suoi problemi per essere presente, quindi si è deciso di optare per la stampa di altri lavori più piccoli. Ecco, diciamo, qui siamo arrivati, questa per esempio è ridimensionata, il lavoro che sarebbe dovuto essere rappresentato in grandi dimensioni su questa parete. Sorry guys, can I move? Because I'm making... Yeah, not a terrific move, but just to explain. Ecco, adesso stiamo passando... Sorry, oh sorry, I didn't see you, I was busy. Stiamo passando sempre nella stessa sala dall'altra parte. Come vedete la qualità a me personalmente sembra molto alta di questi lavori. da qui anche la mia contentezza di essere stato invitato a questo evento. Ecco, adesso non spengo, non spengo perché sennò devo fare due... Ah no, aspettate, ancora qualcosa... Non spesso della parete. Non spengo, dico dopo quando vado in un'altra sala perché sennò dopo dovrei caricare due video. dovrei anche fermarmi magari davanti alle opere, però penso che comunque a grandi linee si possa intravedere un po' la qualità dei lavori e dopo quando ci sarà il video proprio ufficiale di Alex e suo figlio e tutto sarà probabilmente arreso molto da quello che sto facendo io. Anche perché la luce dentro, se non hai proprio una camera video, con questo computer non riesci a... Ecco, qui ti chiamo a Michael, le sue opere stappate in più piccolo. Qua riprendiamo da dove siamo partiti, i suoi lavori, questo piccolo per modo di dire e poi questo che penso sia a occhio, quasi un 3 metri per... 3 metri per 2,50... Eh, mi sa che... mi farò male alla vista perché mi sa che mi muovo troppo... Comunque... vediamo... Eh, giusto per avere un'idea... Adesso qui c'è... ancora un po' di artisti, qualcuno che viene... perché l'apertura è alle 5... alle 17... Adesso partiamo da una seconda sala... qui è ancora peggio come luce... come luce... qui verrà esposto un video... di un autore tedesco, Andrew, che ce l'ha fatta venire in ultimo momento... Adesso stanno vedendo di... preparare il tutto... Ecco, qui abbiamo... Gerard... come se bella composizione fotografica... Se riuscisse a stare più fermo... ma mannaggia a me... Ok... Questa è la seconda... Poi me lo riguardo se vedo... se vedo proprio che spacco gli occhi alla gente non lo posso... però magari... per avere un'idea... ecco... forse... può essere... utile... Questo penso di averlo postato anche su Face... o... vediamo il Merlina... e stanno a vedere... le cose fatte... sul computer... poi stampate, no? in grande... qui sono penso 60x40... ecco, questa è la mia presa di vita... così... da risultare almeno... Ecco, questa qui... questa sì... questa è stata... diciamo... stampata più grande... perché... penso sia la preferita da chi ha visto il tutto... insomma... Ecco... qui ci troviamo... un... un'altra... sempre nella stessa sala... nel muro... abbiacente... questa è una cosa che poi va vista con il buio... perché... i punti segnanti... formano come una forma più scura... che viene intravista solo con lo scuro... e con una luce speciale... adesso passiamo... di qua... dove c'è Maka... Maka è un'artista giorgiana... che insieme ad Alex... ha organizzato l'evento... una persona squisita... un Crazy Cat... come la chiamo io... ma molto... molto brava... molto... questi sono i lavori di Alex... Alex... che nella sua... umiltà e semplicità... non ha voluto strafare... anche lui come noi... ha postato... insieme a Maka... lavori... delle stesse dimensioni di tutti... qui siamo sempre con Alex... che oltre al digitale... è molto molto... ma... diciamo bravo... insomma... però... è forte... nell'olio... nella grafica... acrilico... in qualsiasi media... in parole povere... questo è un altro artista... ecco... ma... sai che qui sono un po' più bravino... ok... adesso... riporto... nell'ultima sala... vediamo così... facciamo... come Michael... ok... Michael... give me just... goodbye... give me five... ciao Michael... I go to the other room... qui verrà proiettato... frontalmente... un video... di Michael... che ieri ho visto... che abbiamo... l'artista... tedesco... che ha portato... delle tele... che però... sono tele... che lui ha fatto... su olio... su tela... lavori... che aveva precedente... completamente... fatta... digitale... come sei... bene... ciao... è difficile... non muoversi... ok... bene... qui in questo vuoto... chiaramente... il bad video di Michael... qui c'è... l'ultimo artista... non... password... 91828... come si dice... password... 9182828... ecco ragazzi... ci siamo... e... spero insomma... non sarà un grande video... però... penso che comunque sia... simpatico... per avere... come diciamo... una prima idea... bene... grazie...